L'unica massima è quella centrale, poi ci sono tutti i fondamenti di altri primari quindi si fa questo punto di andare in tramandà, se non è un valentino centrale e un valentino centrale si fa fare con i semi, che sono, diciamo, semi, depositati e non bisogna, che ti fa, 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 e dei fatti che ti fa, che ti fa, che ci fa, che ti fa, che ti fa, che gli arrivi di noi La morte? E' a immaginato che non saia scuola. E' che pezza? Dava se vuoi, ma non vei che questi. E' che vuoi la presa, ma non vei che fosse... No, non vei che... Non vei che... Non vei che... Non vei che... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.